In Libano il coperchio del vaso di Pandora è ancora ben saldo al suo posto. Il controllo finanziario forense delle attività controverse, suppostamente fraudolente della banca centrale, è fallito. La società esterna statunitense, incaricata dell'audit dal governo, ha rescisso il contratto per il rifiuto della banca di fornire informazioni. Nel giorno in cui il Libano celebra l'indipendenza, il presidente Aoun torna a parlare alla nazione e dice L'audit forense è il punto di partenza per ogni riforma, perché è in grado di svelare le fonti di corruzione e di spreco e di chiarire le cause del crollo in corso e i responsabili. L'indagine, condizione fondamentale per ottenere la fiducia degli investitori stranieri, è deragliata e mentre Aoun parla, migliaia di libanesi sono tornati in piazza Beirut e nelle altre città contro la corruzione e l'impasse gattopardesca del paese. Ci hanno rubato i soldi, hanno rubato la terra, hanno distrutto il sistema legale. Secondo le attuali previsioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite, il 55% dei cittadini libanesi, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, fatica a procurarsi lo stretto necessario e tutto questo avveniva prima dello scoppio della pandemia. Nel frattempo i militanti e i legali per i diritti umani affermano che decine di manifestanti libanesi vengono processati davanti ai tribunali militari per le presunte aggressioni e le forze dell'ordine.